ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video io sono damma colleziona e benvenuti sul mio canale benvenuti in questo nuovissimo video di pillole di on video ben ritrovati in questo nuovissimo video di pillole di on video come potete vedere il protagonista di questo episodio è il cofanetto edito da dinit di mairo accademia questo qui è il box contenente la quarta stagione completa della serie anime basata sull'omonima serie manga di oreco ricoshi serie manga che io adoro è una rivisitazione in chiave giapponese dell'iconico cliché dei supereroi all'americana io possiedo nella mia collezione cofanetti con le precedenti tre stagioni della serie questo qui è l'ultimo box sfornato dalla dinit con i 25 episodi di mairo accademia stagione 4 il box comprende gli episodi che vanno dal 64 all 88 quindi sono in totale 25 episodi e l'arco narrativo che questa stagione racchiude è legato all'associazione di villant shie a sakai personalmente è la storia e l'arco narrativo che preferisco per il momento per quanto riguarda il mondo di mairo accademia è quello che mi ha entusiasmato di più anche perché tra i nuovi personaggi possiamo trovare una potentissima e giovanissima ragazzina ovvero eri e il suo arco narrativo è quello che mi ha colpito di più quello che ho trovato più emozionante l'artwork qui dello slipcover è molto molto bello possiamo trovare quasi tutti i personaggi principali della serie anime ed è un artwork secondo me pazzesco il cofanetto è ovviamente in blu ray qui dietro invece vengono riportate le classiche informazioni sul setup audio video in alto troviamo la sinossi qui in mezzo a una serie di fotografie di immagini della serie e poi qui in basso il setup audio possiamo trovare l'audio italiano e l'audio ovviamente originale giapponese e poi i relativi sottotitoli in italiano qui sulla costina possiamo trovare la scritta mairo accademia come colore principale troviamo questo viola con la scritta mairo accademia il logo della ue della scuola dei nostri supereroi il logo dinit poi la scritta che in inglese sia son for ovvero stagione 4 il logo della ditta giapponese il logo blu ray adesso andiamo a sfilare la marai all'interno dello slip case amarai che ha un artwork diverso rispetto a quello del cartonato esterno anche l'artwork di questa immagine interna della cover plasticosa è molto bello mi piace molto possiamo trovare in alto i due villain principali ovvero il leader della il leader della assai kai e poi troviamo il villain principale dell'intera opera di mairo accademia che è tomura e poi troviamo i due personaggi principali di quest'arco narrativo che sono deku e poi mirio togata e in mezzo che sta proprio nel mezzo della storia troviamo sir night high qui dietro come artwork troviamo gli altri personaggi principale della ue e all'interno della marai troviamo i quattro dischi blu ray due per parte due a sinistra e due a destra bellissime queste serigrafie la serigrafia del quarto disco ci presenta anche dei personaggi molto particolari che trattano diciamo del mini arco narrativo di gentle criminal con la sua sidekick la brava sono due villain atipici e il questo mini arco narrativo molto divertente e carino come cover interna possiamo trovare questa bellissima illustrazione disegnata dove possiamo trovare come personaggi deku mirio togata e poi tomura e leader della shashai overhound e poi all'interno della marai come di consueto c'è il classico booklet spillato l'artwork del booklet è praticamente lo stesso della sleep cover mentre dietro troviamo il classico motto della way ovvero plus ultra spingiti oltre il limite booklet ovviamente scritto in italiano e si concentra sui nuovi personaggi quindi troviamo una breve descrizione delle new entry con dei bozzetti preparatori quindi qui mirio togata nejir e addo sir naitait fight gum e tanti altri nuovi personaggi che hanno un ruolo importante in questo quarto arco narrativo in particolare ci tengo a sottolineare la piccolina eri con il suo cornino e poi oltre ai buoni diciamo troviamo anche dei personaggi villain dei cattivoni e qui troviamo i due atipici villain gentle criminal e la brava come ho detto prima il loro mini arco narrativo è davvero incredibile e basta è un booklet molto interessante che si concentra sui personaggi che agiscono in questo quarto arco narrativo in questa stagione in questi 25 episodi edizione molto molto carina peccato che non sia in digipack come le prime due però complessivamente è un prodotto imperdibile per tutti gli amanti di prodotti anime per appassionati di animazione giapponese adesso tendiamo fiduciosi l'uscita in blu ray barra dvd della quinta stagione che ricordo è già stata trasmessa in chiaro su italia 2 da mediaset quindi dobbiamo solo attendere che dinit sforni sforni l'edizione un video fatemi sapere nei commenti se a voi mai rockademia piace se l'avete mai vista o letta io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e vi do appuntamento fra qualche giorno con un nuovissimo episodio di pillole di un video a presto grazie a tutti